Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo la maglia, la seconda del Feyenoord, una squadra che non avevo mai recensito, però per dire molto bella questa maglia e quindi volevo averla nella mia collezione. Grazie a tutti. Come ho detto la maglia è molto bella, è in versione fan che non l'ho detto prima, la versione fan è quella un po' meno tecnica dedicata ai tifosi. Molto bella, fatta benissimo, il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Trovate tutti i dettagli qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché oltre alle informazioni per acquistare la maglia c'è anche un link col quale potrete ottenere un coupon da 5 dollari. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!